Buongiorno a tutti, in questo video volevo parlare del fanatismo cristiano. Spesso si crede che guardando la televisione è vero, o quello che succede all'ISIS e tutte queste cose, o quando si vedono le donne col niqab che personalmente condanno, si pensa che i musulmani, alcune frange dell'islam, siano fanatiche. Ma che dire del fondamentalismo cristiano, ovvero di quel fondamentalismo che però è nato con il concilio di Nicea, anzi per essere precisi con il concilio di Costantinopoli, dove si deve affermare per forza di cose, anche se le scritture lo negano, che Cristo è Dio. Le scritture non dicono che Gesù è Dio, ma questa convinzione ha permeato e ha invaso talmente gli animi di alcuni cristiani che sono convinti che questa sia la verità, ma le scritture lo negano. Basta leggere la TNM, che è vicina alle versioni originali. Come ha detto, le Bibbie sono state modificate prima e dopo il concilio di Costantinopoli. Se ne guardiamo i Vangeli scritti, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che ricordo fu indirizzato ai pagani, scritto prima del concilio di Costantinopoli, era diverso, poi fu modificato, perché? Per avvalorare un'eresia che era nata da speculazioni pagane. Il profeta Maometto, che studiò con un monaco ariano, un certo Baira, e che quindi conosceva le vere scritture cristiane, evidentemente gli ariani erano più vicini al cristianesimo originale, sapeva che Gesù non è Dio, ma la definizione parola di Dio stranamente la ritroviamo nel Corano, perché il profeta Maometto fu a contatto con l'arianesimo. Questa non è una cosa cattiva, anzi direi che è una cosa buona, perché evidentemente sapeva che l'arianesimo era una vera religione, cioè un vero cristianesimo. Quindi, quali sono le scritture antecedenti al concilio di Costantinopoli? E, diciamo, perché si parla anche, io uso la TNM, che ritengo la più adeguata, perché si parla anche di Bibbie tradotte per i musulmani. Ci sono, e più tardi ve ne parlerò nella mia presentazione. Il Cri-Islam le può adoperare anche, io adopero la TNM perché la trovo più conforme alle traduzioni originali, soprattutto nel Vangelo di Giovanni. Ma, più tardi vi parlerò sia delle Bibbie per i musulmani, che sono anch'esse più vicine stranamente agli scritti originali, delle Bibbie modificate e, diciamo, di come alcuni sostengono sempre l'eresia. Quindi, convertitevi prima che sia tardi, perché questi sono gli ultimi giorni. E con questo è tutto.